Allora Antonio, in termini di classifica, forse quella di oggi è la vittoria più importante della tua carriera, raccontaci che partita è stata. Sì, diciamo che secondo me è uno dei giocatori più forti che ho battuto, è stata una partita molto combattuta, solida, ho giocato da Dio nel primo set molto bene, lui non è riuscito a imporre il suo gioco, diciamo il primo set è quasi perfetto, ho sbagliato veramente poche palle, poi il secondo set è molto più in lotta, ci sta che comunque lui abbia una reazione perché dopo il primo set secondo me lui non ha giocato molto bene, anche se io comunque ho fatto un gran set, però c'è stata la sua reazione, io mi sono comportato abbastanza bene perché sul 3-1 per me al secondo lui è riuscito a recuperare, nonostante sia andato a tre pari sono riuscito a ribreccarlo e poi andando 5-4 sotto, giocando a due game bruttini perché comunque si era subentrata un po' la tensione, il fatto di magari arrivare a vincere la mia prima partita, un po' di tensione, però secondo me l'ho gestito abbastanza bene. E niente, sono contento e speriamo domani di fare un'altra bella partita. Grazie Antonio, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie.